Musica Musica Quella campionata è solo il punto di partenza La media è più importante da tutta le qualità Chi dà le informazioni della chiesa per non fare Perché questo parere non dovrebbe trasvalire Voglio un sistema libero di informazioni Che raggi sono al meglio non so bello a giudicare Ma di un po' di chi politica, di religioni O di dichiari, o lasciare in stare Mi fa mangiare incendemente Che da cambiare Che da mangiare incendemente Mi fa mangiare incendemente Mi fa mangiare incendemente Mi fa mangiare Voglio continuare la possibilità di capire Musica 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 Musica